Quando ragioniamo, quando pensiamo, quando prendiamo decisioni, quando risolviamo problemi, quando navighiamo la vita in ogni suo aspetto, specialmente in quelli più complessi e che richiedono l'intervento della razionalità, facciamo affidamento sulla nostra mente e le sue straordinarie capacità. Non solo, ma nel corso del tempo cominciamo a notare dei pattern che si ripetono, dei principi che si possono applicare in più campi, dei parallelismi, delle strutture, delle regole, delle scorciatoie di pensiero, delle euristiche e cominciamo a costruire un po' per volta una nostra personale cassetta degli attrezzi che col tempo diventa sempre più raffinata e completa, rendendoci non tanto più intelligenti, quanto più saggi e più capaci di applicare la nostra intelligenza per ottenere i risultati che desideriamo. Se ampliamo il campo potremmo dire che anche i detti popolari, i proverbi, ma anche i grandi lavori letterari e scientifici sono un modo per condensare queste idee e trasferirle ad altre persone, in altri luoghi e in altri tempi. Le migliori di queste idee, le più potenti, le più utili, le più geniali, le più universali, le più consolidate, si guadagnano il diritto di venire chiamate modelli mentali. La saggezza combinata delle scienze, della logica, dell'economia, della psicologia al nostro servizio per renderci migliori, come se fossero dei nuovi programmi, dei nuovi protocolli da installare dentro di noi. Il libro di cui vi parlo oggi cerca di regalarci proprio questo. Ci riuscirà? Questo è Quattro frasi per Mental Models di Peter Owens. Senza un modello mentale potresti vedere solo un assortimento di linee disposte in modo casuale, ma con un modello mentale applicabile al contesto è come ricevere una mappa del significato di quelle linee. Ora sai interpretare correttamente le informazioni e prendere decisioni informate. Peter Owens è uno psicologo, scrittore, autoproclamato lifelong learner e mentre leggevo questo suo libro sono rimasto perplesso. Perplesso? Ma è una cosa negativa? Sta forse per arrivare una recensione stroncante, una demolizione totale? No, tranquilli, questa volta no. Questo libro mi ha lasciato perplesso perché mi è piaciuto molto, mi ha aperto un mondo in un certo senso, l'ho trovato utilissimo, lo consiglierei tantissimo, tant'è che sono qui a farlo. Ma al tempo stesso non mi ha convinto fino in fondo mi ha lasciato una sensazione come se mi mancasse ancora qualcosa. Ne riparliamo fra un paio di minuti. Portate pazienza, stavolta dovete rimanere fino alla fine del video. E allora torniamo indietro e partiamo dalla scrittura. Niente di speciale, ma quantomeno non si perde in chiacchiere e va dritto al punto. Ha il pregio, perché in questo contesto a mio avviso è un pregio, di non mettere mai la ricerca della bellezza della frase davanti al desiderio di trasmettere informazioni. Questo libro, quest'autore, questa scrittura sa che cosa vuole e cosa non vuole. E di sicuro non vuole vincere il Nobel per la letteratura, ma vuole invece insegnare strumenti pratici applicabili nella vita di tutti i giorni e farlo in modo rapido e sintetico senza troppe pretese. Il libro quindi non è né più né meno che una raccolta di modelli mentali appunto da applicare a varie situazioni, molto varie. Ben 33 di questi modelli mentali desunti dal lavoro e dal pensiero di personaggi di successo, imprenditori, filosofi, scienziati e chi più ne ha più ne metta. Spiegate in modo semplice e diretto uno dietro l'altro. Bello grande il font, ben paragrafata la scrittura, tutto sembra gridare, ehi, io ce la sto mettendo tutta per venirti incontro. Ora vedi di imparare qualcosina. Si sprecano le citazioni e le storielle per ambientare il modello mentale e dargli un contesto di riferimento. L'inglese è semplice, può leggerlo chiunque, anche chi non ha tutta questa dimestichezza con la lingua. E ora sicuramente vi avrò dato l'impressione che il libro alla fine mi abbia lasciato un po' freddino e invece ha acceso in me un fuoco. Ma anche su questo ci ritorniamo fra un secondo. E lo so, questa recensione è venuta un poco strana, ma portate pazienza, avrà tutto senso fra poco. L'errore è pensare che importante e urgente siano sinonimi e non capire l'abisso di differenza che c'è fra i due termini e come dovresti gestire le tue priorità. Distinguere i due è un passaggio chiave per abbassare l'ansia, bloccare la procrastinazione e assicurarti di stare reagendo in modo ottimizzato. Il primo, il primissimo modello mentale che il libro mi ha sbattuto in faccia a pagina 20. Occuparsi di ciò che è importante, ignorare ciò che è urgente. In realtà è un po' più complesso di così, ma la frase a effetto mi piaceva. Sbam, contatto di diagrammino della matrice di Eisenhower per assegnare le priorità. E io mi sono sentito un idiota perché questa cosa l'avevo già sentita, la matrice di Eisenhower, l'avevo già vista. Nulla di tutto questo mi giungeva nuovo. Però sono stato colpevole di non usare mai questo concetto, sono stato colpevole proprio di farmi prendere dalle cose urgenti e correre dietro a un'urgenza dopo l'altra invece di focalizzarmi su ciò che avrebbe fatto la differenza. Forse il punto è proprio che queste idee, questi modelli mentali, o alcuni di essi quantomeno, sono le classiche cose che si sanno in teoria ma non si applicano in pratica. Continuiamo a sbagliare e a tentare di imparare dai nostri errori quando potremo imparare dagli errori e dai successi di chi è venuto prima di noi e muoverci dritti verso i nostri obiettivi. Ed ecco che allora diventa chiaro il valore di un libro come questo, anzi i valori, perché sono tre. Numero uno ricordarci di cose che già sappiamo ma che non applichiamo e insegnarcene altre a cui magari saremmo potuti arrivare anche da soli ma in molto tempo, con molta fatica dopo molti sbagli e con una dose copiosa di autoriflessione e consapevolezza che non tutti hanno. Numero due sistematizzarle, renderle chiare, spiegarle in modo pratico così che non restino nel reame della teoria ma diventino pratica mentale quotidiana. E numero tre fungere da archivi o da raccolta, da vademecum, da catalogo, da enciclopedia su cui possiamo tornare ogni volta che ci perdiamo per strada uno di questi preziosi strumenti mentali. Vi sembra poco? A me no, a me sembra tantissimo. E allora ecco spiegato, nonostante i limiti di questo libro, il fuoco che ha acceso dentro di me, il fuoco di averne ancora, di imparare più strumenti utili ma soprattutto di approfondirli meglio, di ottimizzare ancora di più il mio modo di ragionare perché con ogni modello mentale sentivo distintamente la mia mente fare un piccolo ma definito salto di qualità. E questo fuoco è anche l'altra faccia della medaglia di quella sensazione di perplessità, come se mi mancasse qualcosa, di cui abbiamo detto all'inizio. Sì perché qui dentro ho trovato tantissimi modelli mentali, molti utili, alcuni un po' meno utili, su cui mi sono soffermato poco ma non ne ho trovati altri che personalmente ritengo fondamentali e che mi sono mancati. In particolare non ho trovato o non ho trovato approfonditi come vorrei quei modelli mentali che derivano dalle grandi teorie scientifiche. Vi ho già raccontato nel mio video sul gene egoista di Richard Dawkins di come le idee dell'evoluzionismo mi abbiano fornito nuovi strumenti di ragionamento per interpretare il tempo, il caso, la natura e mi abbiano fatto appassionare al tema della scienza. Mentre leggevo Mental Models di Hollins ho cominciato a domandarmi se non ci fosse qualcos'altro, qualcosa di più, qualcosa di meglio anche, qualcosa che completasse questa mia esperienza di immersione nei modelli mentali e la portasse a un altro livello. Ed è allora che ho trovato questi. Eh sì, ho barato. Questa non è solo una recensione del libro di Peter Hollins ma anche di questi due primi volumi di The Great Mental Models. E parliamo di loro adesso. Le idee semplici hanno un grande valore perché possono aiutare a prevenire problemi complessi. Ho scoperto da pochissimo Shane Parrish e il suo progetto Farnham Street, un sito, blog, community, casa editrice, podcast ed ente di formazione con lo scopo di trasmettere conoscenze e idee interessanti. Vi lascio il link qui sotto. Ma già ne sono affascinato. Con questi due volumi, volumozzi, il buon Shane ha deciso di condensare i modelli mentali più importanti, più fondanti e curarli per metterli su carta. Simile a quanto fatto da Hollins, direte voi. E in un certo senso sì, infatti i due progetti procedono in parallelo e ve ne ho voluto parlare insieme. Ma qui si è fatta una scelta diversa. Dove il libro di Hollins voleva essere un archivio quasi, una raccolta rapida di una marea di consigli, i libri di Shane sono invece una raffinata disamina di poche idee, molto più curata da ogni punto di vista, a partire dalla qualità di questi volumi che è francamente straordinaria. La copertina rigida, la carta, le illustrazioni, l'impaginazione, dei divisori rossi tra i vari capitoli, leggermente più corti della pagina. Ecco, io questi libri con questi dettagli li amo. Sono il genere di oggetto che fa dire ai boomer che gli ebook non sostituiranno mai il cartaceo. Hanno persino un buon profumo. E sapete che c'è? C'hanno ragione loro e io sono ufficialmente un boomer. E poi la scrittura è molto più curata e ogni idea affrontata con grande dettaglio, cura e rispetto. Meraviglioso. Il primo volume è dedicato ai modelli generali, alcuni dei quali, anzi quasi tutti, si ritrovano anche nel libro di Hollins, quelli più legati alle decisioni e al pensiero razionale. E il secondo volume invece? Il nostro scopo è mostrarti come usare questi modelli per svelare la funzione delle forze in gioco nella nostra vita. Quando un problema sembra troppo complesso o un comportamento troppo misterioso, questi modelli ti daranno uno sguardo nel perché. Io sognavo questa cosa da una vita. Il secondo volume è dedicato proprio ai grandi modelli mentali desunti dalla scienza, in particolare dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia. E questo è quello che davvero mi mancava. Questo è ciò che ho sperimentato quella volta con il libro di Hawkins senza saperlo. Un nuovo modo di guardare al mondo tramite la lente di pensieri scientifici frutto delle più grandi menti dell'umanità. Qui si entra in concetti più complessi, il librone è ben più spesso e denso, ma sempre spiegato benissimo. Non ho ancora finito di leggerlo in realtà, ma entrambi questi volumi me li sto gustando poco alla volta, un'idea alla volta, perché voglio veramente assaporarli e fare miei questi modelli e osservare l'influsso che possono avere su di me. E il meglio è che sul sito di Farnham Street parlano di altri due volumi, il terzo e il quarto, che dovrebbero uscire fra poco e contenere modelli mentali del pensiero sistemico, della matematica e della statistica, dell'economia, dell'arte militare e della psicologia. Sono come un bambino nel negozio di caramelle e ho la carta di credito che scalpita nel portafoglio. Li voglio ora, li voglio ieri. Il tema dei modelli mentali è la mia scoperta del 2021, senza alcun dubbio. Ne avevo sentito parlare, ma non mi ci ero mai buttato e ora sento, anzi so, che giocherà un ruolo fondamentale nel resto della mia vita. Mental Models di Peter Hollins è il modo perfetto per cominciare ad averci a che fare. La serie The Great Mental Models di Farnham Street è il pezzo della 90, l'opera da collezione oltre che di formazione che non può mancarvi se trovate affascinante questo tema anche solo la metà di me. So che questo video non è stato fra i miei più lineari e ben organizzati, l'ho scritto tutto d'un fiato, a caldo sull'onda dell'entusiasmo. Portate pazienza e fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate se avete letto o leggerete questi libri. E se volete comprarli trovate i link affiliati Amazon qui sotto, così con i centesimi del buon Jeff Bezos posso continuare a comprare la Coca Cola Zero per Dario. Io sono sempre Alessandro De Concini e questa era la mia rubrica 4 frasi per, in cui ogni mese vi consiglio o sconsiglio un libro oppure tre, come in questo caso. Io vi parlo tutti i giorni di apprendimento, cognizione, cultura e produttività su tutti i canali social. Ci vediamo nel prossimo video.